Prende lì La sala stava già tutta a fullà E quindi pure a sto Cinematografo Come si dice Fatalità La prima partita Dicetta ma sta autore La prima partita Dicetta ma sta autore Guarda Cicli La conoscete tutti questa canzone? però questa tragedia, questa tragedia catartica di quest'uomo che non sapeva, aveva tutti questi pensieri nella testa che non sapeva più che fare, non riusciva a lavorare più, a dormire e girovacando per le strade di Napoli con questi pensieri nella testa che gli assorbivano, crescevano si trova davanti a un cinematografo e gli trova questo titolo, amore tragico con questa affiscia della donna squadra di Chia che bello, adesso vi vado a vedere questo film e del film dell'oscurità della sala cinematografica ecco, si avvera l'illusione e lui si benissimo a talmente questa storia perché questa storia è come la sua storia il protagonista aveva i suoi stessi pensieri e quindi risolve il problema perché guardando il film lui si libera dei suoi pensieri e però c'è il giorno